www.theotherlife.net slash supernatural Mi chiamo Matteo, il mio nickname sul forum è Matteo Tempo. Il sito l'ho scoperto perché quando ho cominciato a seguire il telefilm ho iniziato a cercare maggiori informazioni su questo prodotto. Il sito è il primo e unico sito italiano dedicato al telefilm. È ricco di qualsiasi tipo di informazione un fan cerca, dall'episodio alle curiosità sui personaggi, dati di ascolto, alle anticipazioni sulle prossime puntate e sulle prossime stagioni. Ci sentiamo di essere stati i primi per esempio ad avere tutti gli spoiler sulla quinta stagione. Le storie che vengono narrate, le leggende e le leggende metropolitane principalmente americane ma nel corso delle varie stagioni anche poi internazionali. Il rapporto che c'è tra i fratelli perché è vero che è una serie fantascientifica ma è molto basata sulla realtà. Il terzo motivo personalmente è l'ambientazione. A me personalmente ricorda molto X-Files. Essere un fan su internet, cioè di un telefilm, significa dedicare parecchio tempo. Diciamo che è come un secondo lavoro. Nel weekend diventa il primo lavoro. Per il secondo anno consecutivo siamo riusciti ad arrivare tra i primi dieci finalisti al Telefilm Festival come fan club del cuore. L'anno scorso siamo arrivati e abbiamo vinto il terzo premio. E quest'anno speriamo di riuscire ad arrivare ancora tra i primi test e non un gradino più in alto. insomma. Li ringrazio io a nome di tutto lo staff di Supernatural Legend perché il sito in fondo è tre anni online. Sono poco più di tre anni, tre anni e due mesi. E nel corso di tre anni i fan sono stati assolutamente unici e ci hanno supportato e seguito costantemente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.